Arrivò fasta con il tuo caro di supporto Oh sì! Perché c'è un veicolo leggero qui, arrivo Dark che mi metto dietro Sto rotto, sto rotto, sto rotto Abbiamo un caro armato leggero lì Eh, dobbiamo seguire di qua, no? Eh, no, lì meglio di no perché è scomodo come signore Prova ad andare frontalmente, moriremo tu Ma è stato, moriremo perché... Vai, vai, vai 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 Go Quanto vi manca alla fine? The New Medi Machine WOTS Quanto vi manca alla fine? Oh, Ji Cazzo di gente c'è lì, vengono scopite, 167, ma che cazzo? Se diamo il claxon, magari ci vedono. No, merda. Bombardiere, e... No, destra, destra! Vai via, vai via, retromarciati! Vengono la vintasca! Retromarciati. Resisteremo, resisteremo. Non ci arrenderemo. Non c'è un cazzo di merda. Non ci arrenderemo mai. È il glidato, il glidato rosso. Dove c'è il glidato rosso? È lontano, è lontano. Eh, sì, sì, sì. Aspetta. Con Makamungo. Mi ha colpito 93! Oddio! Oh, mamma mia! Forse sono arrivati, grandissimi. Cosa avete fatto? Eh, niente, siamo tutti. Non ho detto, 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 non ho detto. Non ho detto, 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 non ho detto. Madonna, ragazzi, il... Il... Disagio. Mamma mia, g... GG da... Oh, lei è in fondo! Mi colpito 94, ma non ci credi! Mi ha visto pure il sangue, no, la magna è calvizzina. Abbiamo vinto la ganna. Beh, vabbè, vabbè. Il cecchino, ti usi, ti usi... Ha campeato quel cacciacarri, dai. Vedete, ragazzi... Ha i capelli! Se voi utilizzate il Krag quassù siete a posto, porca troia!